Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena pubblicato da Viella dal titolo Selve oscure e alberi strani, i boschi nell'Italia di Dante, a e io come mia abitudine non rubo altro tempo e lascio subito la parola all'amico Paolo che ci introduce in questi boschi e selve oscure. Prego Paolo. Bene, grazie Maurizio. Allora intanto buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere qui ospite degli amici di Italia medievale e a parlare di libri e il libro di cui parliamo oggi, come si potrà intuire dalla citazione del titolo Selve oscure, è un frutto dell'anno dantesco da un lato, ma dall'altro anche di un progetto di ricerca portato avanti in seno all'Università degli Studi di Milano e coordinato dalla professoressa Alessandra Dattero sui boschi nella storia e c'è stata la possibilità nell'ambito di questo progetto di incentrare un'attenzione particolare sui boschi medievali o meglio ancora sui boschi fra due e trecento, gli anni a spanne della vita di Dante. Perché portare l'attenzione su questo argomento? Da un lato perché questo è un periodo importante per la vita del bosco, fra undicesimo, dodicesimo e tredicesimo secolo la crescita della popolazione europea porta a una massiccia campagna di disboscamento e che riduce sostanzialmente le superfici coperte da alberi in Europa occidentale più o meno le dimensioni che poi con qualche variazione minore hanno ricoperto fino ad oggi. Quindi un momento fondamentale nella storia dei boschi quando il bosco passa un po' da caratteristica dominante a caratteristica secondaria del paesaggio soprattutto di pianura. Quindi un momento importante della vita del bosco è un interesse a studiare il bosco, i boschi anche tramite le sollecitazioni che arrivano dall'incontro con le altre discipline. Quindi il bosco non soltanto come oggetto economico, come oggetto del paesaggio che sono spesso la chiave con cui la storiografia medievale ha studiato i boschi, ma i boschi come luogo di biodiversità, i boschi come risorsa naturale, i boschi come nicchie ecologiche, poi i boschi come metafora, i boschi e gli alberi come pesanti e potenti metafore della vita usate da tanti ma usate anche da tanti altri letterati e poi i boschi come risorsa, risorsa da utilizzare sotto molteplici punti di vista, dall'allevamento, allo sfruttamento del legname. Quindi una realtà fondamentale per la società medievale ma anche una realtà il cui studio, lo studio del suo sfruttamento, della sua percezione o della convivenza fra uomo e albero serve a illuminare anche molti aspetti della nostra vita, del nostro rapporto con il bosco. E' proprio così, in un dialogo interdisciplinare e con un occhio anche al presente abbiamo voluto lavorare e qui ci sono tre fra i membri di questo bel gruppo di ricerca con cui ho avuto il piacere di lavorare che appunto approfondiranno un po' i diversi aspetti su cui si struttura questo volume. Allora passo la parola con molto piacere alla professoressa Maddalena Moglia dell'Università degli Studi di Milano che approfondirà proprio gli aspetti ecologici e biologici dei boschi medievali. Prego Maddalena. Sì, grazie Paolo e volgo anch'io l'occasione per ringraziare tutti. E sì, come si diceva, il bosco si pone proprio come luogo per eccellenza di un confronto interdisciplinare e tra i diversi punti di vista dai quali il bosco è osservato in questo volume c'è sicuramente quello più propriamente naturalistico, cioè come si presentavano i boschi nell'Italia di Dante. Erano selve oscure, quindi dense, impenetrabili, estese o diciamo boschi più limitati dove è forte la presenza dell'uomo e delle sue attività, quindi boschi addomesticati. Per questo punto di vista naturalistico in questo volume possiamo vedere sia quello che ci hanno trasmesso gli uomini di cultura, coevi di Dante e Dante stesso, sia quello che gli studiosi stanno ricostruendo oggi. Come diceva anche prima Paolo Grillo, sappiamo che il periodo che si estende grosso modo a partire dal X secolo fino al X secolo è definito dal punto di vista climatico periodo caldo medievale e questo miglioramento climatico porta, come si diceva, a un aumento demografico che a partire dall'anno 1000 trova poi proprio il suo apice nell'età di Dante. L'aumento demografico avrebbe portato quindi a un'intensa deforestazione proprio per la necessità di aumentare gli spazi per i coltivi e per i pascoli. Diciamo che il dialogo tra i dati archivistici storici e quelli scientifici come possono essere quelli palinologici l'ho fatto emergere però, e questo si vede bene in questo volume, un quadro, una grande varietà di situazioni però, un quadro più complesso. Per alcune aree si è visto come effettivamente la pressione antropica a partire proprio dall'anno 1000 aumenta decisamente e quindi porta a un uso intenso del bosco, del territorio. In diversi saggi per esempio si vede come l'area dell'Appennino centrale, in particolare la zona tra la Toscana, la Liguria e l'Emilia che poi sono anche le aree più frequentate da Dante. In quest'area si vede appunto un uso intenso del bosco, un governo acceduo per esempio, con cicli abbastanza brevi. Ci sono però altre aree come per esempio quelle di pianura che il cui studio diciamo ha complicato il quadro. Questo si vede bene perché nell'ultimo saggio dove si vede appunto come non solo la pressione demografica ma anche l'aumento delle zone umide ha portato progressivamente a una riduzione del bosco. Si vede come per esempio i dati paleobotani ci hanno mostrato come negli ambienti umidi della pianura padana in particolare il cambiamento dei paesaggi boschivi non è dovuto solo all'attività antropica, quindi a un aumento dei campi corrisponde una diminuzione delle foreste, ma anche alla presenza di zone umide e allagate. In pianura padana per esempio la presenza, l'eccessiva presenza di acqua ha favorito infatti lontano, mentre ha ostacolato la presenza di foreste chiuse che si sviluppano solo nelle aree meglio drenate. Un altro elemento ancora emerge dal confronto con l'archeologia che è appunto un confronto fondamentale per capire com'erano i boschi nell'età di Dante. Questo si vede bene nel saggio dove vengono presentate le ricerche sulla pinetta ravennate dove gli autori si sono chiesti proprio se in quest'area il bosco fosse quello addomesticato che ci presentano Dante ma anche Boccaccio. La documentazione d'archivio in questo caso testimonia un'alternanza costante tra zone paludose, pinete, boschi litoranei, però solo questi dati archivistici non riescono a farci comprendere le caratteristiche di questi ambienti e dove effettivamente si trovassero. Quindi per definire le caratteristiche anche del bosco litoraneo e della pianeta medievale è stato, diciamo, le fonti scritte sono state messe, incrociate con i dati archeologici e con le fonti cartografiche. Quella che emerge è l'immagine di un territorio composito dal punto di vista ambientale e antropico e la documentazione mostra che le pinete sorgevano come piccole isole all'interno di boschi formati anche da altri alberi e non solo da pini. Quello che emerge quindi è una grande varietà di situazioni. Le deforestazioni per la conquista di nuove terre utilizzate per la coltivazione del pascolo avvennero in tempi e modi diversi a seconda delle condizioni preesistenti, umane ma anche naturali. Il bosco quindi è un bene prezioso che veniva a volte distrutto per far posto appunto ai campi, altre volte invece preservato, valorizzato, altre volte ancora cambiato attraverso l'immissione di nuove specie arboree che erano più utili per l'uomo. Ecco, proprio l'utilità sembra essere una cifra che caratterizza come i coetanei dei Dante guardano al bosco. Diciamo che ci sono due saggi in particolare che si soffermano sulle conoscenze dell'epoca. Innanzitutto Dante stesso, questo si vede bene in un saggio, si mostra essere un attento osservatore della sfera naturalistica, non solo come un espediente narrativo e poetico, ma anche proprio come osservatore del mondo arboreo. Come Dante, gli uomini di cultura del tempo infatti sono molto attenti ai boschi. In uno dei saggi infatti è dedicato a quella che forse è il più importante trattato in materia agraria dell'epoca, scritta da un notaio bolognese che l'opera è l'Opus Comodorum Ruralium, che probabilmente è opera che Dante conosce e che ha letto. E qui che cosa emerge? Vediamo che innanzitutto al bosco è riservato uno spazio all'interno del trattato, mentre fino a questo momento i trattisti parlano di alberi attraverso lunghi elenchi, ma finalmente il bosco è visto come un corpo, quindi non un insieme di alberi magari slegato, ma come proprio un corpo che ha una sua complessità. E questa novità riflette la coscienza di un utilizzo consapevole del bosco da parte degli uomini del Trecento, che non è considerato più come parte dell'incolto, ma che fa parte appunto della sfera dell'agricoltura propriamente detta. Questi aspetti quindi ci mostrano la forte attenzione che gli intellettuali dell'epoca dedicano alle piante e alle loro differenti anche esigenze ecologiche, perché c'è una forte impostazione antropocentrica, ma questa avviene senza trascurare mai l'ambiente circostante, cioè i boschi e gli alberi che ne fanno parte sono sempre inseriti da parte di questi trattatisti all'interno di un ecosistema che il proprietario del bosco deve conoscere e considerando quindi l'equilibrio tra le piante ma anche le lune, i microclimi e lo studio del terreno. Quindi insomma un'immagine varia e complessa e lascio ora la parola alla dottoressa Vittoria Bufanio, prego. A tutti, a tutte, mi collego appunto a quello che diceva Maddalena adesso, a quella consapevolezza degli uomini medievali che avevano gli uomini medievali del bosco, sul valore economico e sulle potenzialità che il bosco aveva come appunto nell'economia e la possibilità di sfruttamento del bosco, delle risorse forestali come sfruttamento economico da parte degli esseri umani. come sapranno tutti appunto il bosco e le foreste avevano una grande valenza economica perché erano il luogo di esercizio di diritti anche collettivi e comunitari. Nel bosco si potevano praticare la pesca, la caccia, la raccolta e il bosco soprattutto era il luogo in cui di approvvigionamento di una delle materie prime fondamentali per le società medievali, ossia il legno. Il legno che era il principale combustibile e quindi importantissimo e molto utile per le attività produttive e artigianali e il legno era anche una delle materie prime, principali delle costruzioni medievali. E questo anche alla fine del 1200, all'inizio del 300, poiché anche se le architetture di quel periodo, come ha dimostrato ampiamente l'asterografia, erano principalmente costruite con l'utilizzo dei tre mattoni, il regno conservava comunque un'importanza fondamentale e quindi la richiesta di questo materiale da parte della canteristica è anche a questa altezza logica. Pensiamo ad esempio a come veniva usato il legno, cioè a tutte le strutture accessorie al processo di costruzione come i ponteggi, ma anche le dimore temporanee, ad esempio, delle maestranze nei cantieri, ma alcune strutture anche portanti delle architetture. Quindi questo ci dice che la domanda di questo bene del legname era ancora estremamente forte alla fine del 200 e all'inizio del 300. La storiografia degli ultimi decenni, ma anche numerosi saggi, in questo volume si occupano proprio del modo in cui è stato preservato anche il bosco come risorsa economica e questo si inserisce anche nel dibattito storografico cui si è accennato anche in precedenza sulla grande pressione demografica che nell'ottica malthusiana avrebbe spinto a irreversibili e aggressivi disboscamenti in favore della messa a coltura dei terreni per le esigenze dell'alimentazione. Ecco, molti saggi in questo volume la storiografia ha messo in discussione questa visione un po' meccanicistica e ha guardato al bosco come innanzitutto una modalità anche di coltura che si integrava bene con la cultura, ad esempio, appunto dei cereali e quindi un mondo molto più complesso in cui non si può, non possiamo contrapporre le aree coltive produttive ad alle aree incolte improduttive. Questo lo vediamo anche ed è molto significativo in uno dei saggi di questo volume quello dedicato all'Abbazia di Chiaravalle noi pensiamo sempre ai monaci come dei grandi dissodatori e invece Luis Gentili in questo messaggio presente in questo volume ci dice che invece ancora all'inizio del XIV secolo ci sono delle campagne importanti di acquisti, di acquisizioni da parte dell'Abbazia di Chiaravalle di risorse boschive e non risorse boschive non acquisti finalizzati al dissodamento ma a preservare queste risorse a preservare e ad utilizzarne diciamo accederne per utilizzarle appunto valorizzarle nei modi in cui abbiamo detto in precedenza e questo saggio ci dice anche qualcos'altro ci dice che ci dice altre due cose molto importanti a mio avviso innanzitutto ci dice che in controtendenza con le modalità di gestione usate dall'Abbazia di Chiaravalle alla fine del 1200 che tendevano a una gestione indiretta di queste terre molte, la maggior parte di queste risorse boschive e forestali invece sono gestite direttamente dal dal e quindi evidentemente diciamo anche questa scelta di cultura diretta e non indiretta ci dà importanti informazioni sull'utilità del possesso di queste di queste terre e in più ci dice anche che anche nelle zone più antropizzate quindi non solo in alta montagna o in bassa valle diciamo ma anche nelle zone più antropizzate resistono ancora delle risorse boschive importanti e molto sfruttate anche da grandi enti ecclesiastici ho accennato in precedenza alla domanda di legname per l'architettura in questo saggio sono presenti in modo particolare due saggi che ci rendono conto di danno conto di di questo risvolto del sfruttamento del bosco uno al Piemonte e uno al Veneto per quanto riguarda il Piemonte anche qui vediamo attraverso la documentazione relativa alle grandi costruzioni edilizie che le presenze boschive erano certamente molto presenti diciamo le aree boschive molto presenti in tutto l'arco alpino ma anche in alcune zone di pianura in cui venivano preservate per per queste esigenze ciò che emerge in questo senso è che la differenza un po' che possiamo vedere fra boschi di pianura possiamo dire così e boschi di montagna che le aree boschive montane nelle aree insomma alle maggiori altitudini avevano conservato anche un capitale un capitale umano con delle competenze delle capacità di lavorazione del legno insomma che veniva che veniva prodotto che sono l'indice di come il bosco aveva costituito negli anni diciamo diciamo muoveva un circuito economico di produzione molto più più alto creava del valore aggiunto al di là di quello del commercio del del legno vediamo anche nel saggio sull'area veneta ad esempio in cui Dario Canzian ci mostra ci dà un'idea di dove veniva si approvvigionava la Repubblica di Venezia per le sue esigenze grandi esigenze se pensiamo anche all'arsenale di Venezia le costruzioni dell'arsenale di Venezia e alla presenza di aree boschive soprattutto nel trebigiano che si erano anche che potevano anche essere coltivate convertite alle dirette per le dirette esigenze di dell'utilizzo del del legno appunto nelle nelle costruzioni questa forte domanda di di legname innescava anche dei circuiti economici e commerciali molto importanti lo vediamo ad esempio nel caso nel caso di Pavia nel saggio di Laura Obertoni su Pavia dove emerge chiaramente che i luoghi di approvvigionamento della di Pavia della città di Pavia erano ancora vasti e numerosi e potevano diciamo garantire un adeguato approvvigionamento per la città e soprattutto avevano creato degli investimenti importanti quindi di circuiti economici importanti con degli investimenti importanti da parte delle elite cittadine alcuni grandi operatori economici cittadini che investivano grandi capitali in in questo commercio nel commercio del legname e ricevevano appunto i proventi dei grandi proventi quindi vediamo come il valore economico del bosco e lo sfruttamento del del bosco era fondamentale da vari punti di vista e l'interesse anche a preservare queste aree da parte delle comunità cittadine ma anche comunità rurali era ancora molto saldo e vivace alla fine anche in un momento di pressione demografica all'inizio o all'inizio del del 1300 ora questo diciamo è un quadro sintetico spero mi avete sentito bene o a tratti di quello che potete trovare appunto in questo volume ma anche qual è il quadro stereografico in cui si inseriscono questi questi saggi sul valore economico del del bosco e io ora passo invece la parola alla dottoressa Lidia Zanetti Dominguez che ci parlerà invece del bosco come oggetto culturale grazie mille Vittoria anche io vorrei ringraziare gli ascoltatori e Italia Medievale per questa bella opportunità come è stato detto appunto io mi occuperò del tema della percezione culturale simbolica nei boschi dell'età di Dante e quindi delle rappresentazioni dei boschi nelle fonti artistiche letterarie e religiose dell'epoca e questo è appunto uno dei valori aggiunti come ha detto il professor Grillo di questo volume in quanto proprio grazie all'approccio interdisciplinare tutti gli studi che sono stati compiuti sull'analisi della realtà e dell'utilizzo dei boschi nel basso medioevo possono informare anche la nostra visione della percezione culturale di questo stesso spazio infatti la visione tradizionale di questo diciamo sul ruolo dei boschi in questo periodo basso medievale era molto negativa la storiografia aveva sottolineato come nel basso medioevo i boschi diventino uno spazio sempre più spaventoso agli occhi degli abitanti dell'Europa basso medievale proprio in seguito a questi grandi sboscamenti che fanno delle aree boschive delle aree sempre più marginali e che quindi fanno paura a chi le deve attraversare questo si lega anche alla teoria di Lynn White molto famosa sul fatto che il cristianesimo basso medievale sarebbe appunto la radici della nostra attuale crisi ecologica proprio perché da questo momento in poi i luoghi che non sono completamente antroppizzati vengono visti come negativi e paurosi in realtà proprio come a livello economico anche a livello culturale bisogna ridimensionare notevolmente questa svalutazione dei boschi nell'Europa medievale il bosco infatti nelle fonti che sono state analizzate nel volume risulta essere non tanto un luogo della paura quanto un luogo del cambiamento che cambia chi lo percorre in quanto è allo stesso tempo un luogo fisico e un luogo dell'anima questi risultati ottenuti dal volume che stiamo presentando si collocano sulla linea di un'altra importante opera sul bosco nel medioevo che è uscita negli ultimi anni frutto del lavoro della storiografia francese sul tema cioè la forêt au moénage ma il nostro volume rispetto alla forêt au moénage insiste su l'utilizzo di nuove fonti per studiare questi stessi temi come per esempio Dante la cui selva oscura è chiaramente il luogo per eccellenza dello smarrimento che cambia il poeta e il personaggio della commedia e lo porta ad elevarsi e per esempio la predicazione basso medievale che non era stata ancora analizzata nell'ottica della visione del bosco che essa può comunicare e in cui la foresta si presenta proprio come luogo propizio al cambiamento in quanto pone i personaggi degli exempla dei racconti edificanti tipici della predicazione in una condizione di dover scegliere tra il bene e il male e quindi porta questi personaggi o alla conversione nella maggior parte dei casi ma ovviamente ci sono anche esempi negativi di persone che optano per il male e quindi come conclusione della loro vita vengono dannati all'inferno e questo mostra la portata europea di questo discorso sull'importanza del bosco come luogo del cambiamento e non tanto come luogo della paura perché appunto c'è una corrispondenza tra gli studi francesi e italiani e anche le fonti esaminate quali Dante e i predicatori italiani si rifanno comunque a modelli culturali europei elaborati nel corso di secoli quindi si può parlare di una visione idealizzata ma concreta della foresta da parte di letterati religiosi di quest'epoca come è stato ricordato dalle mie colleghe la foresta era un luogo di attività economiche non opposte ma complementari ai coltivi e questo è qualcosa che le fonti letterarie e religiose che sono state analizzate sottolineano moltissimo quindi per esempio sempre negli esempi medievali nella foresta compaiono personaggi quali i carbonai gli allevatori di porci i taglialegna tutte figure professionali che effettivamente operavano nella foresta e come è stato sottolineato dalla professoressa moglia i letterati conoscevano le tecniche di gestione dei boschi utilizzate in quell'epoca e le citavano all'interno delle proprie opere letterarie per quanto riguarda poi i monaci cistercensi di Chiaravalle è interessante sottolineare come questo ordine come molti ordini religiosi nati nel dodicesimo secolo nell'età diciamo post-riforma gregoriana l'ordine appunto tendeva a stabilirsi in luoghi che erano considerati marginali per rifarsi all'ideale tardo-antico dell'eremo situato all'interno del deserto che ovviamente nel caso tardo-antico era il deserto dell'Egitto in ambito europeo per assenza di deserti veri e propri la foresta ricopriva un ruolo molto simile nell'ideologia degli ordini religiosi e tuttavia nonostante questo desiderio di appunto isolarsi dalle città Chiaravalle è uno spazio comunque molto vicino a una delle più grandi città dell'epoca cioè Milano i monaci diventano famosi come agenti del disboscamento e tuttavia come è stato ricordato a ciò si accompagna una valorizzazione e una capacità di descrizione minuziosa della foresta e dell'agrosistema da cui fa parte anche da parte dei monaci cistercensi quindi ancora una volta all'ideale si accompagna una visione molto concreta degli spazi forestali inoltre come è stato ricordato passando dalla professoressa moglia è interessante analizzare il rapporto tra foresta e città nei testi letterari e religiosi del basso medioevo che è un rapporto ambivalente in quanto questo dipende dall'ideologia e dalle simpatie dell'autore che scrive un determinato testo ci sono infatti ordini religiosi più dediti alla vita attiva come gli ordini mendicanti i cui esponenti nelle loro prediche tendono a fare della città il luogo per eccellenza dove gli esseri umani devono vivere secondo le teorie aristoteliche dell'uomo come animale sociale mentre invece gli ordini più contemplativi come ho già detto valorizzano moltissimo la foresta come luogo dell'introspezione e della contemplazione tuttavia sarebbe errato dire che personaggi come Giordano da Pisa dell'ordine dei Domenicani che appunto fa sue le idee aristoteliche sul fatto che l'uomo è un animale sociale e il suo luogo naturale è la città siano completamente ostili agli spazi forestali infatti non c'è una netta contrapposizione come è stato più volte ricordato tra il bosco gli spazi urbani e i coltivi anche perché per lo più gli autori parlano di un bosco almeno superficialmente antropizzato un caso a parte ovviamente invece è Dante che nel tredicesimo canto dell'inferno ci parla di un bosco infernale quello dei suicidi e questo è chiaramente un luogo per nulla antropizzato anzi un luogo del disordine anticivile senza sentieri in violazione del precetto divino che impone all'uomo la lavorazione del suolo e che invece viene opposto al bosco ideale costruito da dio per l'uomo nel giardino dell'Eden ma che l'uomo si è negato compiendo il peccato originale e questo luogo è comunque paragonato a un luogo reale cioè come è stato ricordato la pineta di classe a Ravenna inoltre il ruolo simbolico degli alberi era sfruttato anche nei centri urbani come ci dimostra l'utilizzo dell'albero della giustizia nei comuni italiani quindi un albero sotto il quale si diceva e si amministrava la giustizia e l'importanza di questo albero è sottolineata dal fatto che anche quando furono costruiti i primi palazzi comunali nei comuni italiani l'uso dell'albero della giustizia non venne abbandonato e anzi venne usato fino alle soglie dell'età moderna e ancora nell'ottocento venne molto ripresa l'immagine di re Luigi di Francia San Luigi che dice la giustizia sotto una quercia nella foresta di Vincennes come immagine idealizzata di una giustizia di prossimità che ormai nell'ottocento non era più esistente infine vorrei fare un cenno al vocabolario utilizzato dalle fonti letterarie e religiose dell'epoca per definire la foresta allora sia in latino che in volgare italiano ci sono numerosi termini che si possono utilizzare tra cui foresta bosco silva in latino silva nemus e i postclassici buscus e foresta per lo più nelle lettere nelle opere letterarie questi termini sono utilizzati come sinonimi a parte il caso del termine lucus che definisce un bosco consacrato agli dei pagani quindi ha un connotato chiaramente negativo soprattutto nelle opere religiose invece nei contesti economici per esempio le liste di appezzamenti posseduti dal monastero di Chiaravalle vengono fatte delle differenze tra i termini e l'opposizione tra silva e buscus sembra corrispondere alla differenza tra bosco di alto fusto e bosco ceduo e inoltre il termine foresta è un termine di origine franca per un bosco considerato in quanto bene pubblico sotto la giurisdizione delle autorità temporali e uno dei saggi del volume sottolinea come per esempio nell'Italia meridionale il termine viene introdotto dai normanni per indicare le superfici di pertinenza regia gestite secondo uno specifico regime di gestione dei boschi quindi una varietà di vocabolario che però attiene soprattutto al campo della valorizzazione economica del bosco mentre invece in ambito letterario la necessità di utilizzare sinonimi per indicare questo spazio sembra portare a non fare troppe differenze tra i vari termini che esistono per indicarlo io con questo concludo e ripasso la parola al professor Grillo grazie grazie a tutte e tre per le belle desaurienti esposizioni due parole di conclusione cosa possiamo dire appunto allora del bosco in questi secoli centrali del medioevo ma io direi che l'impressione forte che viene è quella di una vicinanza tra uomo e bosco di una quasi simbiosi tra queste due realtà appunto tutt'altro che distanti e anche tutt'altro che ostili è vero che si sacrifica il bosco in caso di bisogno ma non è mai un sacrificio tranquillo non è mai un sacrificio sereno tant'è vero che ci sono conflitti per esempio montagna appunto dell'Appennino Toscano fra chi vuole tagliare e chi vuole difendere e il bosco che appunto arretra ma è anche il bosco che viene invece potenziato e allevato alle pinete della costa adriatica ma anche il castagnetto e gli alberi da frutto che approfittando delle circostanze climatiche positive vanno ad estendersi sulle prealpi e sulle alpi e quindi un rapporto fra l'uomo e il bosco che è un rapporto di convivenza forse quasi di collaborazione no ci sono alberi che sfruttano le necessità alimentari dell'uomo per essere diffusi a scapito delle altre specie o a scapito di terreni magari non boschivi prima che vengono coltivati allevati in questa maniera e per questo c'è spazio per una percezione complessa del bosco e il bosco appunto medievale non è il bosco delle favole in cui ci si smarrisce si viene divorati dagli orchi o si incontrano lupi cattivi è prevalentemente un luogo che cambia come ha giustamente ricordato la dottoressa Zanetti Dominguez è un luogo che cambia perché è una metafora ma anche perché in realtà e lo dicono anche tanti libri di forestali botanici studiosi a quali veramente l'albero ci cambia veramente il bosco ci cambia sono stati fatti studi scientifici sulla quantità di endorfine che libera una passeggiata nel bosco e l'albero ci influenza il meglio è in grado di farci dire la giustizia in maniera più giusta e l'albero influenza il nostro modo di vivere per la sua presenza nelle case nelle abitazioni la pietra è molto utile sotto molti punti di vista ma è fredda il legno è caldo ancora adesso passato un po' la sbornia degli anni 70 quanto legno c'è nelle nostre case potremmo far tutto di plastica ma non sarebbero più davvero le nostre case quindi come dire è un libro anche un po' sentimentale questo lo devo dire che vuole anche trasmettere l'importanza degli alberi l'importanza del bosco perché giustamente è stato sottolineato che il bosco è una cosa più complessa rispetto a un insieme di alberi e del fatto che appunto oggi come nel medioevo credo noi dovremmo avere grande cura di questo patrimonio mi fermo e ringrazio ancora una volta Lidia Malbellena e Vittoria per il contributo e Maurizio e tutta Italia Medievale per la sempre squisita ospitalità beh sono io che ringrazio voi e lo faccio ricordando il titolo del libro perché così si può correre ad acquistarlo selve oscure e alberi strani i boschi nell'Italia di Dante pubblicato da pochissimo da Viella a cura di Paolo Grillo e consiglio vivamente l'acquisto di questo di questo volume soprattutto per la qualità delle ricerche che contiene quindi grazie a tutti voi per aver partecipato e a presto a benne se si o piede la tua chi freirà e sopire e me ne gran dolore super lui demanda fille e qu'avez-vous volevo marì 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 un po' un po' Grazie.